ciao da mister elmet dovete sapere che qualche giorno fa ho pubblicato un video in cui mi ponevo alcuni dubbi su cripto data tech sponsor di aprilia rnf il team di raslan razzali reduce dall'abbandono di petronas e dal fallimento del suo precedente sponsor with you energy nel video evidenziato alcune particolarità dello sponsor cripto data che è anche proprietario del team del suo coinvolgimento in attività precedenti al fatto che i suoi prodotti non corrispondano a quanto pubblicizzato ho pubblicato tutta la documentazione la recensione gli articoli e le fonti tutto le ho trovate tutte e le trovate tutte anche voi qui linkate poi vi spiego perché perché anche se non c'era nessun materiale legato a copyright deve aver dato fastidio questa cosa a ovidiu toma ovidiu toma e bogdan maruntis di cripto data che lo hanno segnalato a youtube rivendicando proprio questa violazione di copyright e youtube ha rimosso il video e la prassi e youtube lo fa per non avere problemi illegali e togliersi dagli impicci ho fatto un reclamo a mia volta e quindi nei prossimi giorni vedremo se verrà accolto nel frattempo vi metto il link al video perché il video lo trovate ancora sul mio sito e altre piattaforme meno paranoiche ok nel frattempo però siccome sono sicuro di essere nel giusto e di non aver usato materiale proibito perché tutto era disponibile online sulla stampa mi rivolgo direttamente a ovidiu toma amministratore delegato CEO come si dice di cripto data e chiedo alcune cose direttamente a lui ok se vi piace tutto questo iscrivetevi al canale attivate le notifiche scoprite come potete supportare mister elmet con lo shop magliette capellini così qualche donazione se vi va i super stickers i super grazie o un abbonamento ok un abbonamento al canale questi contenuti sono gratis per chi li ne usufruisce ma accostano a chi li fa se volete un'informazione libera questo modo ma ecco le mie domande cara cripto data è possibile avere un'intervista diretta con qualcuno di voi in modo da poter porre queste domande e altre domande senza che mi sfuggiate due caro mister ovidiu ovidiu toma perché ha fatto rimuovere il video motivando la cosa con violazione di copyright se tutto il materiale che ho preso è pubblico lo sa che il video è comunque online e io andrò dritto per la mia strada perché qui siamo in italia tre non è meglio che mi lasci fare il mio lavoro così io le lascio fare il suo se lo fa quattro non è che cripto data ha paura di mister elmet che è l'unico ad aver messo in luce finora certe cose oltre a tutto il resto della stampa mondiale non motociclistica che parla di voi da tanti anni anche se non molto bene 5 ovidiu toma vuole chiarire una volta per tutte il suo rapporto con karat bars e la truffa schema ponzi basata sull'oro e la conversione di cripto valuta con il divieto di karat bars il divieto di karat bars ad operare in numerosi paesi del mondo 6 ovidiu toma era forse lei chief technology officer quindi il capo della tecnologia di karat bars oppure no io dico di sì era o non era socio fondatore nella faccenda della cripto valuta 7 era lei con il lingotto in mano o no alla presentazione a dubai che fini ha fatto quella cripto valuta le foto ci sono ancora i link ve li ho messi 8 è vero che i prodotti cripto data quindi cellulari e pc erano strumenti hardware che venivano dati in occasione della truffa karat bars e sono ancora gli strumenti di edain e altre attività da chiarire alcune delle quali classificate come schemi piramidali 9 signor ovidiu toma vuole chiarire i suoi rapporti con alex body arrestato per human trafficking e suo socio in karat bars come viene detto dalla stampa del suo paese ci sono anche molte foto dove siete insieme ovidiu toma vuole chiarire come mai i suoi prodotti vengono recensiti pressoché ovunque negativamente e vi prendono in giro su reddit e tutte le altre piattaforme libere quelle che non riuscite a bloccare come mai 11 disattivate i commenti ogni volta che ci sono recensioni e pareri negativi sui vostri canali 12 ovidiu toma vuole chiarire le recensioni di cripto data su trust pilot dove parlano di scam e truffa da parte di cripto data sia sulla parte cripto data punto ro che sulla parte cripto data punto com ok numero 13 ovidiu toma e bogdan maruntis volete chiarire il vostro ruolo il ruolo di cripto data nell'hosting della piattaforma edain tramite zixar come mai edain e zixar che è un vostro sito sono stati definiti schema piramidale dalla banca centrale russa 14 avete portato voi edain da aleish spargaro come sponsor potete fornirmi chiaramente su come funziona edain veramente numero 15 ovidiu toma potete fornirmi chiarimenti su come funziona zixar veramente numero 16 per caso fate hosting di altri siti sospettati di essere degli schemi piramidali oltre a questi 17 potete fornirmi chiarimenti su tutti i prodotti che dovevate lanciare negli anni e non avete mai lanciato fra cui il telefono tinker che doveva partire nel 2020 invece è scomparso oppure l'auto elettrica momentum che non lanciate mai e non si è mai vista in movimento anche se vengono dichiarate prestazioni incredibili come vengono dichiarate calcolate queste prestazioni se l'auto di fatto non esiste non si muove 18 come mai mi sono rivolto a del e ha dichiarato di non avere collaborazioni con voi 19 come mai dite di avere 14 sedi nel mondo ma non c'è nemmeno un indirizzo oltre a quello in romania 20 come è stato stabilito il valore di 200 milioni di euro di crypto data tech se non c'è nemmeno un bilancio disponibile a proposito c'è un bilancio disponibile 21 da chi è composto il vostro consiglio di amministrazione 22 è possibile sapere qual è la somma versata al team rnf a copertura della maggioranza delle quote 23 volete parlare del fondo di garanzia di un miliardo di dollari che dite di aver istituito insieme a martin brothers and company per tutelare gli utenti dalle perdite delle criptovalute dovute a truffe e a cattiva gestione vi metto il link nell'articolo 24 il progetto doveva partire a settembre perché non è partito tutte le rete i consumatori anche dalla cattiva gestione dei partner che ospitate sulla vostra piattaforma xiden e zixar 25 come mai la società assicurativa martin brothers and co da voi indicata non esiste cioè risulta inattiva con un sito vuoto e non funzionante realizzato da voi e nessun cliente e nessuna traccia di attività ma che davvero 27 perché dite che non vi occupate di criptovalute e invece avete una piattaforma per il mining di criptovalute chiamata xiden dove state ospitando ripeto edain che è un progetto definito persino dalla banca centrale russa come piramidale dite che volete difendere i clienti dagli scammer ma chi li difende dal vostro buzzwords dei vostri documenti cosa rispondete 28 a chi siamo quasi arrivati a chi vi accusa di fare social engineering nei motori di ricerche riempendo riempiendo internet di progetti che poi non vedono mai la luce allo scopo di avere credibilità finanziaria 29 cosa rispondete a chi vi accusa di avere solo buzzwords sui vostri siti e di non spiegare mai niente veramente dei vostri progetti e dei vostri prodotti e del vostro codice 30 avesse ricevuto domande sul vostro business di controllo da parte di dorna rnf o aprilia 32 e un'ultima domanda è quasi ho violato qualche copyright facendovi queste domande non c'è neanche un immagini andrete a piangere da youtube questa volta come fate 33 avete il coraggio o avete paura di farvi intervistare one to one face to face da mister helmet mister o video toma e bogdan maruntis one to one faccia faccia no adesso una domanda perdona sono sicuro che avete effettuato tutti i controlli in merito a questo sponsor potete fornire alla stampa diciamo così un resoconto di che tipo di controlli avete fatto e avete fatto la stessa analisi che avete fatto nel caso di tanala ramco di mike technologies di tutte ste robe qui di tibur tech di shake e architetti domanda per aprilia è vero che il pagamento delle moto è garantito da irta quindi a voi in fondo no ma cosa pensate dell'accostamento del vostro brand ad attività delle quali non si vuole fare chiarezza facciamo chiarezza magari mi sbaglio io perché quando vi ho contattati per informarvi avete sottovalutato la cosa così troppe domande va bene ciao da mister helmet ciao